Eccoci nuovamente con Francesco. Ciao Francesco, bentornato. Ciao Christian. Allora, oggi parliamo di relazioni tossiche. Secondo me in giro ce ne sono veramente tante. Ci sono diverse persone che probabilmente sono in una reazione tossica, ma non vogliono rendersene conto, cioè non vogliono guardare la realtà in faccia. Quindi vorrei che tu mi dessi qualche spunto per capire se appunto sono o meno in una reazione tossica. Beh, già se qualcuno si sta facendo questa domanda diciamo che è già buon punto per capire che magari lo è. Cosa facciamo a capire se è una reazione tossica? Intanto, cos'è una reazione tossica? Una reazione tossica è una relazione in cui tu non stai bene con l'altra persona, o l'altra persona addirittura ti fa male, ti fa terrorismo psicologico, non ti permette di uscire di casa, lei è libera di fare tutto e tu no. Ma tu pur di non stare da solo per la grande paura di stare da solo, di non avere qualcuno al tuo fianco, accetti tutto questo. Cosa facciamo a capire se stiamo effettivamente in una reazione tossica? Basta vedere i comportamenti, le libertà e quello che succede con la propria compagna o compagno. Esempio molto banale. Devi uscire con i tuoi amici. In una maggior parte di una relazione sana, quando tu dici alla tua ragazza, guarda io sto scendendo con i miei amici, non ci dovrebbe essere alcun tipo di problema. Perché comunque sei una persona libera, adulta e responsabile che puoi uscire tranquillamente con i propri amici. Se non ti fa uscire con gli amici, ti fa scena di gelosia appena esci, ti fa storia ogni volta che devi fare qualcosa, già queste sono delle campanee d'allarme che ti devono far capire che magari sei una relazione non proprio sana. Un secondo campanee d'allarme è quando, che è una cosa molto furba che fanno, cerco di manipolarti. Ah, questo è molto diffuso. È una cosa molto furba che fanno le ragazze o le persone tossiche in generale. Non ti diranno mai no, non puoi fare quella cosa. Perché? Perché sarebbe troppo semplice se io ti dico non puoi farla. Tu mi dici caso, tu mi hai detto no, io la faccio perché posso farlo. Ti fanno credere che in realtà sia tu a volerlo. Come lo fanno? Molto semplicemente. Non ti dico non puoi uscire con i tuoi amici, ti dico solo che se esci con i tuoi amici io mi sento sola. Io poi sono a casa da sola senza fare nulla. Oppure magari ti riempio di messaggi perché devo sapere cosa stai facendo e se non mi rispondi entro 8 secondi, che in generale sono entro 4-5 secondi, ti inizio a bombardare di chiamate o di messaggi perché devo sapere cosa tu stai facendo. È successo molte volte a molti studenti che pur di pensare in quella situazione non lasciavano la ragazza, cioè quasi si privavano della libertà. E tu ovviamente dopo che fai il primo litigio, il secondo litigio, il terzo litigio, il quarto litigio, alla fine non è che prendi la ragazza e dici guarda, ho questa cosa, io ho la mia libertà, se poi uscire con i miei amici è un mio diritto, posso farlo, senza che tu debba stare lì a mandarmi 50 messaggi. No, iniziano a dire vabbè, sai che c'è, alla fine se la fa stare male rimando a casa. E poi vai in palestra, hai qualche passione particolare che paradossalmente possono essere anche passioni banali come i videogiochi, una passeggiata, il trekking, andare a fare un giro in macchina, un giro in moto. Anche qui stesso discorso, non dicono mai non farlo, dicono semplicemente che se tu lo fai togli del tempo, prezioso a loro e quindi non devi farlo perché altrimenti loro si sentono sole, si sentono abbandonate. Secondo campanello d'allarme. Il terzo, onestamente, è quello più bello, quello che ogni volta che lo vedo dico sempre, ma perché? Quando tu non hai la libertà praticamente di fare nulla perché ogni cosa la fa stare male, ma al contrario questa cosa non può esistere. Cioè lei può uscire, lei può andare in discoteca, lei si può andare a divertire con gli amici, lei può avere tutte le passioni, gli hobby che vuole. E tu stai lì un po' come un cagnolino in attesa che lei ti dà attenzioni. Perché se tu provi anche solo ad alzare la testa, anche solo a dire un attimo guarda che però questa cosa perché io non la posso fare e tu sì, lì ti fanno scattare i sensi di colpa. ah ma quindi tu mi vuoi in qualche modo limitare? Sì ma lo fai anche tu. E la cosa che a me fa più rabbia quando vedo queste situazioni è che le persone non se ne accorgono e accettano queste situazioni, in meno del tutto passiva. Perché? Perché dobbiamo stare così? Perché non voglio stare da solo? Ma riguarda l'attività di libertà non ha senso. L'attività manipolatoria che chiaramente nessuno dice perché sembra quasi che siamo noi di Play Lover che manipoliamo le ragazze per ottenere risposte che desideriamo. E invece è molto frequente da parte delle ragazze. Nello specifico io direi che ci sono molti comportamenti che mirano a come dire togliere autostima all'uomo per far sì che questo vada quindi poi ad attuare un comportamento che a secondi la donna. Perché se il comportamento dell'uomo non soddisfa pienamente la donna allora la donna cerca di sminuirlo cerca di togliere di togliere autostima al partner in maniera tale che questo modifichi il suo comportamento e a secondi la voglia della donna no? Assolutamente. e questo tipo di atteggiamento è veramente molto frequente. Ci sono delle donne che mirano a sgretolare l'autostima di un uomo per far sì che questo a secondi totalmente i desideri della donna e quindi ragazzi state molto attenti le conseguenze di questi comportamenti sono che vi andate a riempire di energie negative sì ma veramente ho sentito emotivamente grigie e quindi di conseguenza ogni giorno vi farà schifo vi toglierà energia vi sentirete stanchi vi sentirete stressati eccetera 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 sì ma la cosa più grave è che siete sempre dipendenti da quella persona se quella persona domani mattina si alza e vi lascia voi vi ritrovate letteralmente con nulla in mano perché non avete più amici al lavoro la situazione non va bene non avete più una vita sociale non avete una passione non avete un hobby e poi che fate? andate in depressione vi ammazzate cioè svegliatevi un attimo prima assolutamente sì grazie Francesco Topic molto interessante alla prossima alla prossima